Questo è il Rosato 207, il Pinot Grigio. È un vino che come potete vedere è rosato, con un profumo intenso e floreale e con un sapore semisecco con una punta abbastanza amabile. Una delle caratteristiche principali di questo vino è che è l'unico vino che nasce rosato. Perché? Perché l'uva del Pinot Grigio è un'uva rosata. Infatti è proprio grigio perché non è il Pinot Bianco che è un'uva bianca e non è il Pinot Nero che è un'uva nera. È un incrocio tra le due ed è l'unica uva rosata che se vinificata e le bucce vengono lasciate a contatto con il vino va a produrre esattamente un vino con questo colore qua che quindi è un rosato. Un vino bello fresco, frizzante, che si presta bene alle giornate estive e noi ve lo proponiamo in questo caso con delle tartine con patate insaporite e baccalà perché può accompagnare sia un aperitivo che anche un pranzo leggero. Grazie a tutti.